Segretario, quello che è accaduto nel carcere San Donato di Pescara ovviamente induce a delle riflessioni. Possiamo dire che ci sono diverse problematiche che riguardano il San Donato? La prima, la carenza di organico, ma non solo. Sì, le problematiche sono molteplici e come abbiamo iniziato a segnalarle dal maggio 2019, dove io ricordo benissimo che con Sitin già ci siamo resi conto che le problematiche che c'erano allora saremmo arrivati a ulteriori problemi perché chiaramente la carenza di personale, personale che continuano ad andare in pensione, il suo raffollamento, sono tutte cose che chiaramente poi portano a questi risultati. Purtroppo siamo stati disattesi, nessuno ci ha ascoltato, noi abbiamo fatto vari incontri anche col prefetto due volte, siamo stati in regione all'Aquila, adesso leggevo giorni fa che anche il governatore ha fatto una missiva al ministro, sperando che qualcuno ci ascolti e che si renda veramente conto di quelli che sono i problemi di questo istituto. Quanti sono gli agenti che mancano nel carcere di Pescara? Adesso siamo oltre le 50 unità, quindi se lascio immaginare su una pianta organica di 167 unità ne mancano più di 50, quindi è facile capire che il problema è serio, ma poi oltre al fatto delle 50 unità è un problema ancora più importante che questo personale è tutto personale superiore ai 50 anni, quindi un personale ormai già si può dire stanco perché giustamente l'età è quella che è. Poi c'è anche una problematica di ordine strutturale, questa è una struttura vecchia e ci sono tra l'altro dei lavori in corso? Sì, è una struttura molto vecchia che chiaramente ha le sue peculiarità anche per quanto riguarda il discorso di sicurezza, con un muro molto basso, ci sono molte cose che chiaramente non funzionano proprio per quanto riguarda la sicurezza dell'istituto, è normale che poi se uno basta che si faccia un esame di coscienza, se un detenuto in tre minuti riesce a stare al di là dei muri di cinta e andarsene, quindi si capisce che ci sono dei problemi strutturali.